Continua a lavorare a parte ma duramente Beppe Genchi, Bomber Genchi che pian piano sta recuperando dall'infortunio pronto a dare il suo contributo al Bitonto. Sì, abbiamo intrapreso questo percorso di lavoro, il ritiro penso che sia la situazione più giusta per migliorare la condizione sia fisica di tutta la squadra che la mia che vengo dall'infortunio importante. Stiamo lavorando a parte, sto lavorando bene, i miglioramenti sono giorno dopo giorno e quindi quello che ci eravamo detti prima del ritiro di arrivare a fine agosto e inizi di settembre col gruppo diciamo che in questo momento siamo ancora più convinti che ce la possiamo fare. Stai rispettando dunque la tabella di marcia ma ora Genchi fisicamente e moralmente come si sente? Moralmente è un morale molto alto, un morale abbastanza alto perché comunque rivedo il campo, rivedo la palla dopo tanto tempo e rivedo anche lo stare nello spogliatoio, rivivere i compagni e quindi credo che questo ti porta il morale su. Poi il morale te lo alza anche il fatto che comunque si avvicina anche il rientro totale e quindi credo che non può essere solo che alto il morale. A livello fisico credo che comunque la condizione non è ottimale ma credo che è normale, il ritiro è sempre così, a prescindere dall'infortunio credo che comunque la condizione la prenderemo a fine agosto. Nonostante l'infortunio, nonostante l'anno scorso nella parte finale non abbia potuto vedere il campo Genchi è stato sicuramente importante a livello di gruppo, a livello di spogliatoio. Chi meglio di te quindi può descriverci anche in virtù dell'esperienza della scorsa stagione come sta crescendo questo gruppo bitonto? Sì, l'anno scorso ci ho cercato nel mio piccolo tra riabilitazione e altro di essere più vicino alla squadra ma anche perché era un periodo molto importante, infatti la squadra ha fatto un periodo di ritorno, un giro di ritorno bellissimo, hanno preso i playoff non da quinti ma da quattro e credo che sia una cosa eccezionale a prescindere poi dal fatto che comunque tra virgolette si poteva pensare che non era una stagione fallimentare, però abbiamo salvato la stagione, ho cercato di essere più vicino possibile alla squadra perché si era creato un grande gruppo da novembre e dicembre in poi. Quest'anno io credo che sia un gruppo eccezionale perché questi 4-5 giorni in ritiro sono passati velocemente anche se con la stanchezza sembra di no, però quando non ci alleniamo o quando ci alleniamo c'è sempre una serenità, una felicità anche di stare tutti quanti insieme. Quindi credo che il gruppo stia lavorando bene e credo che sia un grande gruppo.